Nessuna proposta gestionale con un carattere autonomista, ma soltanto un contributo per informare e soprattutto informare l'opinione pubblica e dunque i cittadini sul contenuto dell'ultima circolare del Ministero della Salute per prevenire anche sul territorio del Comune di Gaeta la diffusione del coronavirus. Il sindaco Cosmo Mitrano ha tenuto tanto a sottolineare questa finalità che ha avuto un incontro organizzato con un gruppo di specialisti di medicina generale. Presso l'Aula Consiliare è stato soprattutto illustrato il modello organizzativo che attraverso una serie di misure di prevenzione messe in atto ha sancito il raggiungimento di una strategia tra l'istituzione comune e la sanità a favore proprio dei cittadini. La migliore prevenzione è cercare di evitare che possano essere coinvolte altre persone per cui chi ha questi sintomi ci si sente con il medico o col proprio medico di medicina generale. Si studia la situazione, si pianifica un controllo di questa cosa e guardate noi a Gaeta ci siamo riuniti tutti quanti, abbiamo deciso di essere assolutamente reperibili, di sentire i pazienti con questi sintomi anche due volte al giorno per cui massima tranquillità. Le visite saranno programmate, cioè l'accesso allo studio non avverrà come è stato finora a discrezione del genitore ma bisognerà contattare il medico, spiegare il motivo dell'eventuale visita, dopodiché il medico in base alle sue competenze deciderà se il bambino potrà accedere allo studio. L'accesso dovremo fare in modo che avvenga in solitudine. I medici hanno tenuto anche a battesimo un modello per tentare di evitare forme di contagio dal Covid-19, quello di non avere troppe persone in sala d'aspetto. I accessi a studio li abbiamo dovuti veramente limitare, abbiamo bisogno di non avere troppe persone in sala d'aspetto, questo per impedire che ci siano dei contatti con delle persone che potrebbero avere sia influenza o altro.